taschina alice usata originale ex dotazione usarmi questa è una taschina porta caricatori porta granate interamente in cordura di nylon con i famosi attacchi alice metallici sul retro viene passato il cinturone e poi vengono serrati chiusi in questa parte qua si aggancia lo spallaccio una clip per aprirla al suo interno troviamo due divisori per mettere almeno tre caricatori del colto ovviamente e agli suoi lati mettiamo due bomba a mano due granate apple poiché vengono montate sempre le ananas però in effetti anche le apple vanno dentro agevolmente senza troppi problemi la chiudiamo è molto solida molto robusta alle volte trovate il logo us non sempre visibile